Invidiamo il dottor Garitano, Francesco. Allora, onoratissimo di far parte di questo congresso, grazie per Carmelo che mi ha concesso un'ora per la relazione. Scherzo, scherzo, anzi siamo in ritardo. Comunque, la mia relazione è sull'infiammazione della sindrome fibromialgica. Ora, cercheremo di, molti concetti sono stati già detti bene nel corso della mattinata, cercherò di riprendere alcune cose importanti. Poi ovviamente ci sarà sempre la scuola dove si sviscereranno bene tutti questi concetti. Allora, domanda, la fibromialgia chi la conosce veramente? Bella domanda, perché c'è una grande confusione. C'è una grande confusione su questa sindrome fibromialgica. Guardate cosa ancora leggiamo. Sono malata, non mi capiscono. La malattia è invisibile. C'è vergogna ancora a leggere queste cose. E quindi ovviamente, visto tutte le conoscenze che abbiamo, e ancora continuiamo a non credere su questo discorso qua. Ma, se andiamo a vedere un po' di statistica, si stima appunto che dal 2 all'8% della popolazione mondiale ne sia affetta. Circa 1.200.000 persone sono affette da fibromialgia. Questo da Società Italiana di Reumatologia. Guardate la forbice che si sta ingrandendo. Da 20 a 55 anni, ovviamente, soffre di fibromialgia con un occhietto più verso le donne. Ovviamente, questo che vediamo è la parte alta dell'iceberg. Ma il sommerso, io mi chiedo, ovviamente, se questi siano dati effettivamente reali, perché ovviamente c'è ancora oggi difficoltà nel fare la diagnosi, purtroppo. Quindi potrebbero essere molti di più, in questo caso. Ovviamente, brevemente, fibromialgia, scomponiamo la parola in algos, dolore, mio, muscoli, fibro, fibrosi. E quindi andiamo a vedere che questi concetti di fibrosi e di mialgia vanno a coesistere. Quindi, vedete, la mialgia rappresenta proprio l'aspetto infiammatorio. E qui ho scritto, quindi, l'aspetto infiammatorio rappresenta il momento di lotta contro proprio la fibrosi. Quindi il momento in cui l'organismo cerca di reggire agli eventi di rigidità. Quindi è importante cominciare a capire. Qua vedete la figura mitologica che portava il peso addosso di Atlante. Quindi, ad oggi, veramente, è una patologia organica, sistemica, molto complessa. Quindi capisco la difficoltà nella diagnosi. Io ho costruito questo piccolo puzzle dove ho detto, ma quando parliamo di sindrome fibromialgica, di cosa parliamo? Parliamo di disfunzione mitocondriale, parliamo di stress ossidativo, parliamo di acidosi tessutale, parliamo di infiammazione, parliamo di neuroinfiammazione, parliamo di autoimmunità, parliamo di disfunzione neurovegetativa, parliamo di problematiche intestinali, parliamo di predisposizione genetica, ma soprattutto di epigenetica. Oggi ne abbiamo parlato, vado avanti su questo discorso, disequilibrio degli assi ormonali, un altro concetto importante, fattori psicologici, disequilibrio dei neurotrasmettitori, qui c'è anche, entra anche qui un discorso anche di genetica, sul dismetabolismo di alcuni dei neurotrasmettitori, come glutammate e altre sostanze, e chissà quante altre cose andremo man mano a capire, perché questo è quello che ho riportato e su cui mi sono concentrato. Sto scrivendo un libro sulla fibromialgia, spero che uscirò a fine anno, dove c'è l'amico Mauro Miceli, ma c'è altri professionisti che hanno preso parte, stiamo scrivendo questo libro, proprio per cercare di far capire alle persone che leggeranno questo libro, che effettivamente la situazione è bella complicata. Questi erano i dati, giusto per riportarvi PubMed, quindi quello che ritroviamo di studio, ho messo fibromialgia, guardate, da due studi soltanto nel 45, siamo arrivati a 893, poi ovviamente c'è stata questa flessione degli studi, probabilmente per il discorso del Covid, ma questa è la parte centrale, ne abbiamo parlato tutta la mattinata, questa infiammazione di basso grado, che è alla base di tutte le patologie, in cima c'è la fibromialgia, ma guardate che questa, noi non la vediamo questa infiammazione, sono questo fuoco interno che veramente crea queste situazioni e questi sono gli attori, praticamente bisogna cercare di spegnerla e quindi inibendo l'NFKB, attivando i recettori PPR gamma, VDR, RXR, inibizione del recettore MTOR, attivazione delle sirtuine, azione sulla cascata dell'acido arachidonico, sul processo della detossinazione, ovviamente guardate questo, è tutto più complesso, perché oggi abbiamo visto bene dalla relazione di Mauro Miceli, dell'NFKB, ma anche di altri relatori, del MCTOR, ne abbiamo sentito parlare, ma delle sirtuine che vanno a togliere uno o più gruppi acetilici da NFKB, spegnendo o frenando il processo infiammatorio, quindi guardate come il discorso diventa sempre più complesso, ovviamente per fare questo serve conoscenza e la conoscenza ci porta ad operare in questo modo. Quindi l'infiammazione è stata ormai, questo vi ho riportato uno studio del 2022, vedete che la valutazione dell'infiammazione, è stata valutata la proteina ciriattiva ad alta sensibilità, erano pazienti infiammati, pazienti con fibromialgia, fibromialgia con valori elevati di proteina C reattiva ad alta sensibilità. Ovviamente gli studi, c'è tanto da dire come sono fatti questi studi, gli studi andrebbero visti bene, come chiacchieravamo con l'amico Mauro Miceli, vanno saputi leggere gli studi, perché ovviamente il problema grosso è che tutti siamo bravi a vedere uno studio, però dobbiamo prenderlo in considerazione, varie cose. Questa è una vignetta che ho fatto io, per cercare di far capire come questa infiammazione di basso grado, guardate da quante cose viene alimentata, stress, sedentarietà, ma credo queste sono tutte cose che abbiamo detto nel corso della giornata, disidilazione, dormire male, quindi epigenetica, e anche il discorso alimentare, perché ovviamente ci sono sia cibi pro-infiammatori, ma ci sono le food sensitivity, ci sono, che ovviamente questo è il nuovo nome dell'intolleranza alimentare, parliamo oggi di infiammazione da cibo, è quindi il nome più corretto. Dal malfunzionamento dei mitocondri, e qui ritorniamo al concetto dei mitocondri, può originare la sindrome fibromialgica, e qui erano stati gli spagnoli che avevano cominciato a fare subbiopsie cutanee degli studi, cominciare a vedere un attimino se si ritrovavano, ed era stata ritrovata questo discorso della disfunzione mitocondriale. Ovviamente che cosa è successo? È successo che è stato bloccato tutto, forse perché non conveniva nessuno, aggiunto. E questo è lo studio di stress ossidativo, disfunzione mitocondriale, di eventi infiammatori comuni nella pelle dei pazienti con fibromialgia, ovviamente sono tutti gli autori spagnoli che hanno preso parte a questo studio. Quindi fattori che agiscono sulla salute del mitocondrio, abbiamo fattori genetici, fattori ambientali, guardate, ipossia al centro, in alto, carenze di micronutrienti, stress, dismetabolismo, acidosi della matrice, fattori ambientali, acido urico, rischia insulinica, problematiche a livello dell'intestino, guardate, metalli pesanti, sedentarietà, traumi, per poi arrivare alla disfunzione del neurovegetativo e all'infiammazione di basso grado. Qui abbiamo il meccanismo di azione, quindi va bene, ma qua la sorvolo, ipossia, disfunzione mitocondriale, stress ossidativo, che poi genera quindi cambio del metabolismo cellulare, acidosi, quindi però ovviamente su questa la sorvolo, perché ovviamente ne abbiamo parlato nel corso della giornata. però andiamo, questo invece è quello che possono fare questi radicali liberi, possono andare ad aumentare il dolore e possono andare a ridurre anche la riduzione della massa magra nei pazienti affetti dalla fibromialgia, quindi queste specie reattive, questo è sempre un articolo nuovo del 2022, quindi agire sullo stress ossidativo potrebbe essere una delle priorità nella gestione della malattia con un enfasi sul miglioramento del dolore muscolare. questa l'ho costruita io, l'ho costruita io perché la matrice ne abbiamo parlato, non sono stato bravo come alcuni stamattina che hanno fatto vedere una bella matrice, ma l'ho fatta io, quindi al centro vedete la matrice extracellulare perché il cuore del problema è là, guardate che questa passa da sola gella, ma guardate quante cose ci agiscono sulla matrice, innanzitutto vi dovete chiedere che cosa c'è nella matrice, ci sono i nocicettori, sono i recettori del dolore che comunicano verso l'altro, cominciano a scaricare molto veloce il segnale, questo arriva al midollo e al sistema nervoso centrale viene magari in questo caso, in quel caso lì ci possiamo avere anche un'amplificazione, quindi ecco la famosa genetica, dicevo prima, di disregolazione dei neurotrasmettitori, quindi con un segnale che viene magari doloroso, che viene amplificato, quindi pensate all'allodinia, e quindi dal cervello partono delle fibre verso il basso che poi portano dolore dappertutto, il dolore del fibromialgico è un dolore sparso, dolore diverso, però sparso, poi guardate qui l'intestino che produce sempre anche, io ho messo lps dei grammi negativi, ma altre tossine che vanno a creare ambiente acido, quindi questa matrice, guardate le tossine che provengono dai capillari, quindi dall'ambiente esterno, anche metalli pesanti, tutto il resto, come vanno ad incidere sulla matrice, questa disfunzione mitocondriale che cambia, abbiamo detto che cambia il metabolismo cellulare, dalla respirazione cellulare alla glicolisi lattacida, quindi alla produzione di lattato che poi porta H+, all'interno della matrice, però questa matrice, perché è bassa da solla gel, perché c'è anche poi una disregolazione del neurovegetativo con un'attivazione dell'orto simpatico che va a vasocostringere diciamo questi questi vasi linfatici che dovrebbero drenare tutte queste tossine, ma non succede questo, quindi ecco che diventa questa una palude, una palude acida e quindi praticamente non viene più smaltito nulla, quindi da gel, da solla gel e quindi non ci c'è tollo, ricordatevi, e quindi praticamente in breve quello che è praticamente il cuore del problema l'ho chiamato e quindi ovviamente da qua nasce il dolore cronico diffuso, stanchezza, affaticamento, problematiche gastrointestinali, perché dovete capire che dietro al sintomo c'è sempre un meccanismo molto complesso, non ci dobbiamo concentrare sui sintomi più, ma ci dobbiamo concentrare su quello che c'è a monte, dobbiamo cercare di analizzare quello che c'è a monte, perché se no facciamo un lavoro pessimo, l'ossigeno come fonte di vita, quindi qua siamo importante, no? Perché l'ossigeno uno mi potrebbe dire perché tutti quanti respiriamo, ma perché nella fibromialgia che si ha questo problema, perché la persona potrebbe non usare l'ossigeno perché il DNA mitocondriale non è a posto, vi è disfunzione mitocondriale, quindi praticamente l'ossigeno ossigenare è molto ma molto importante e questo disfunzione mitocondriale come abbiamo sentito prima deriva dalla abbiamo una eredità diciamo materna. Parliamo di intestino, ma ippocrate ce lo siamo dimenticati ovviamente, purtroppo ce lo dimentichiamo, ma quindi c'è uno squilibrio, un processo disbiotico, poi nella fibromialgia come sto approfondendo io negli studi a livello intestinale, parliamo di SIBO, parliamo di alterazione della permeabilità, parliamo di un sacco di cose, comunque c'è uno squilibrio tra molecole pro e molecole antinfiammatorie, quindi in questo caso tutto è sbilanciato verso molecole, formazione di molecole pro infiammatorie, questo era quello che vi volevo dire prima, quindi la disregolazione dei neurotrasmettitoriali che guarda caso parte pure dall'intestino perché molti batteri producono anche questi neurotrasmettitori, quindi c'è tutto un discorso ovviamente molto complesso, aumento della presenza del dolore, affaticamento, disturbi del sonno, sintomi depressivi e ansia, che ricordatevi che nella fibromialgia non c'è una depressione, ma è una depressione reattiva, questo è molto importante perché a qualcuno viene detto tu sei depresso prenditi un antidepressivo e se ne vanno a casa e questo ovviamente non ce lo possiamo più permettere di fare queste stronzate, scusate il termine. Come intervenire? Mi avvicino alla fine, non so quanti minuti ho, ma penso uno ha 40 minuti, ce l'ho, in caso di fibromialgia c'è tanta confusione nell'approccio, ognuno è esperto di fibromialgia, ognuno fa il professorone di fibromialgia, io ho scritto qui non esistono protocolli per la fibromialgia, ci voleva, ci tenevo a dire questa cosa qua perché ognuno si propone il suo protocollo per la fibromialgia, no, assolutamente perché dobbiamo sempre contestualizzare e personalizzare l'intervento nutrizionale e nutraceutico, ma dobbiamo conoscere quello che abbiamo detto prima, cosa succede a livello mitocondriale, dobbiamo intervenire, dobbiamo sull'equilibrio acido-base, sull'infiammazione, sulla disregolazione neurovegetativa, sull'intestino, sul riequilibrio degli assi ormonali. cosa significa? Che io nel libro ho scritto il concetto delle dominanze, cioè nel senso prendere, ovviamente è una sindrome fibromialgica, ci sono tanti sintomi e ovviamente io vado a cercare il sintomo più importante, almeno diciamo chiedo alla persona quando viene in studio, senti, che cosa c'hai di queste cose qua, principalmente, dolore, stanchezza cioè il neurovegetativo addirittura lo utilizzo una lucetta al buio per fare e faccio questo movimento qua per vedere se mi mantiene le pupille dilatate è in un orto simpatico una una cosa molto pratica che ho visto che effettivamente è così, l'ho provato su una persona fibromialgica che mi rimaneva con le pupille così, provato col marito e praticamente la luce chiudeva le pupille invece in orto simpatica era molto attivo perché l'orto simpatica è un acceleratore mentre il parasimpatico è un deceleratore e quindi praticamente bisogna sempre andare ad agire quello che ho proposto nel libro la dominanza di dire guardo con un occhio al sintomo e con l'altro occhio vado a monte perché ovviamente viene una persona perché ovviamente io ne vedo tante persone con fibromialgia ovviamente vengono persone sempre con sofferenti che hanno girato le mille chiese e ovviamente non puoi mandare cioè comincia a fare un lavoro per dargli un po' di sollievo però cerchi di fare tutto il lavoro a monte nel frattempo ovviamente ovviamente ho sposato il concetto della medicina di segnale del dottor di con la dieta gift con il dottor Luca Speciani del dottor Luca Speciani non so se c'è non lo nomino mai Luca Speciani ma stavolta non lo vedo in sala ok quindi gli arriverà la voce da là no perché mi dice sempre ma ogni volta non mi nomino mai la dieta gift allora sì io opero con questo concetto perché ovviamente il concetto più sensato della leptina che va ad agire sugli assi arriva al centro e va ad agire sull'asse ipotalamo ipofisi sul rene tiroide muscoli cioè quindi è importante quando vi ho parlato della disregolazione ormonale è questo quindi la pratica è questa qua e guardate poi ovviamente vado ad agire sulla calma insulinica sul ripulire l'alimentazione da prodotti industriali assumere andare su cibi alcanalizzanti ma ovviamente drenare la matrice utilizzando prima magari basificandole poi fare un drenaggio di matrice e quindi ovviamente l'approccio nutraceutico io utilizzo quello che tutti i giorni ma non è che perché ho messo tutti i prodotti di Giorgio da antiossidanti dal self food che lo uso tantissimo il self food vitamina C spray la vitamina E l'acido alfa lipoico la vitamina B la carnitina ma non tutti insieme ovviamente non è che se ne esce con tutti insieme ovviamente decido se no il NAC il glutatione liposomiale il same importantissimo il same e uso il self food same gocce che ha mille funzioni ma non sto qui ovviamente per i tempi a descrivervi tutto anche la MSM è molto importante come self food MSM spray la vitamina D è il coenzima Q10 ovviamente ci sono tante evidenze sul dolore e la vitamina D perché la vitamina D non va più trascurata è un ormone vero e proprio ormai andiamo troppo a trascurarla ci sono delle connessioni io a volte vedendo pazienti con vitamina D a 3 4 dando una somministrazione giornaliera a volte il dolore è scobbare cioè alzando i livelli di vitamina D ho visto che molti pazienti avevano meno dolore quindi non trascuriamo questo aspetto della vitamina D l'ossigenoterapia allora arriviamo al self food arriviamo alla parte conclusiva veramente lo utilizzo tantissimo il self food perché veramente ci credo come prodotto ma ovviamente dopo l'esposizione di Iorio mi pare vergogna pur a presentare questa questa slide con azione antiossidante proprietà ossigenanti proprietà prova apoptotiche e gli studi ci dicono anche nel 2011 questo studio qua quindi ce lo confermo ancora di più ovviamente questi sono stati altri studi dove c'è la proprietà antiossidante miglioramento dell'attività mitocondriale e quindi ovviamente ottimo nel discorso protettivo in cui si sorge associata alle disfunzioni mitocondriali e alla fibromialgia il test epigenetico io sono uno dei primi penso sono il terzo il quarto il quinto insomma ad averlo preso e da lì è cambiato un po' perché ovviamente veramente si possono ottenere va usato bene e ce l'ha detto Stanton cioè comunque non è che tu fai il test epigenetico e gli dai al paziente il referto e quello se ne va non ci è capito niente a nessuno ma va contestualizzato in tutte la la clinica no? però ti dà molte informazioni e questo veramente ha cambiato perché se dobbiamo parlare di ambiente esterno che agisce sui nostri geni è quale miglior strumento avere analizzare il bulbo e metterlo in questa piastra andarla ad Hamburgo in 20 minuti e ti arriva un risultato e credo che veramente ho trovato grandi ma anche nei problemi della tiroide ma anche in altre situazioni ma interventi sul tono vagale qua dopo le risate yoga eccetera eccetera non ci sarebbe niente da ridere sulla sidonome fibromialgica sono cose importanti perché aiutano aiutano tantissimo e infatti la diminuzione del tono vagale contribuisce in modo importante alla sviluppo e al montellamento dei disturbi del dolore cronico quindi agire su questo aspetto da non trascurare sul sonno non ne parliamo proprio perché io me ne occupo del sonno ho scritto anche un capitolo nel libro del dottor Luca Speciani comunque questo volevo darvi solo l'ultima slide razionale quando uno dice ma fai una meditazione fai un esercizio di respirazione fai delle tecniche di rilassamento e oggi abbiamo capito che attraverso il nervo vago rilascio di acetilcolina e quindi di molecole anti-infiammatorie queste cose funzionano perché se no se non ti spiegano il razionale tu non capisci perché devi ridere perché devi meditare perché devi fare tutte queste cose qua perché ovviamente hai anche un beneficio su tutto il resto grazie per l'attenzione bravo bravo grazie